Il Pescara è la prima finalista del massimo campionato di calcio a 5. Il derby abruzzese, giocato ieri sera al Palarigopiano con l'Acque Sapone Montesilvano, ha premiato la squadra di Fulvio Colini che dopo il pareggio per 3-3 in gara 1 al Palaroma ha regolato per 7-3 i cugini nerazzurri, ottenendo così lascia passare per la finalissima dove se la vedrà con la vincente della sfida fra Caos Ferrara e Luparenze che si deciderà invece in gara 3. La vittoria del Pescara, privo degli squalificati Ercolessi, Rogerio e Salas e con Colini in tribuna, è stata meritata e mai in discussione. Decisivo l'avvio di gara dei ragazzi del presidente Iannascoli che sono riusciti a portarsi sul 4-0 amministrando poi nella ripresa il vantaggio nonostante il ritorno della squadra di Massimiliano Bellarte che ha dovuto fare a meno di Leitao e Montefalcone. Nelle Pescara in evidenza Maximiliano Rescia, mattatore dell'incontro e autore di ben 4 reti, per i pescaresi in gol anche Costa con una doppietta e Canal, per l'Acqua e Sapone gol di De Oliveira, Cavinato e Autorette di Morgado. Dopo il caldo finale di gara 1 ieri sera al Palarigopiano tutto è filato per il verso giusto. Maximiliano Rescia, 4 gol su 7 portano la tua firma, si può dire che non Pescara abbatte Montesilvano 7-3, Rescia abbatte Montesilvano 7-3? No, 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 per fortuna mi è toccato segnare ma altre volte ho toccato altri, questa non è la stessa importanza fare un gol che difendere che se salvare un gol sotto la porta nostra alla fine chi segna o chi no non è una cosa per me importantissima anche perché non è il mio ruolo sinceramente, io sono un laterale universale più difensivo che offensivo, per fortuna oggi sono riuscito a aiutare di questo modo la squadra, sono contento soprattutto per la vittoria perché è stata dura e meritatissima. Avete messo a sicuro il punteggio nel primo tempo, avete amministrato il risultato nella ripresa e poi con il portiere in movimento dell'Acqua e Sapone siete riusciti a chiudere la gara? Sì, noi sapevamo che per noi era importantissimo andare in vantaggio perché all'essere ridotti per cose che hanno successo stasettimana, che non lo so, non c'entrano niente con me o con i giocatori, siamo trovati una situazione particolare, sappiamo che eravamo sei e che dovevamo lottare più del solito, sappiamo che col 100% ognuno non bastava per vincere, sapevamo pure che era una partita difficile, siamo entrati molto carichi, molto motivati e nei primi minuti siamo riusciti a fare quello che volevamo, portare la partita dal lato nostro e sapevamo che poi loro giocano bene col portiere in movimento e che dovevamo subire questo e difendere, l'avevamo fatto bene. Ora è giusto sognare lo scudetto, c'è questa finalissima, avete il tempo per preparare Garauno? Sì, oggi penso che dobbiamo rilassarci, godere questa vittoria, siamo molto felici e già dopo domani iniziare a pensare in questo sogno della società che da 4-5 anni si sta preparando per questo, noi lotteremo fino all'ultimo, sia il risultato che sia, come abbiamo dimostrato oggi in campo, con il cuore fino a che finisce e non possiamo fare più niente. Ovviamente sogniamo pure noi dall'inizio del campionato, adesso dobbiamo rilassarci e preparare questa gara difficilissima sicuramente. Grazie a tutti.